Stasera la prima uscita di un ciclo di appuntamenti davvero interessanti. Può presentarci in breve a cosa assisteremo in questi vari appuntamenti? Allora, stasera iniziamo questo reading che ha come protagonisti i poeti dell'aria eblea. Questa idea è un'intuizione geniale di Giovanni Portelli, il quale ha pensato di coniugare il fascino del Museo del Costume con i versi, pensando di realizzare un binomio artistico nuovo ed interessante. L'obiettivo finale è quello di realizzare una antologia multimediale che rimanga nel tempo e che faccia quindi un bilancio di quello che è la poesia attuale nell'aria ragusana. Ci saranno cinque incontri, in ciascun incontro saranno presentati tre poeti. Nella prima fase tre figure che avranno un ruolo critico presenteranno l'autore e la poetica. Poi ci sarà questo momento particolare in cui i poeti declameranno i loro versi nelle varie stanze del museo. È una rassegna poetica iblea. Abbiamo riunito, organizzato questa rassegna con molti poeti che hanno partecipato a questa iniziativa. L'obiettivo finale è quello di costituire l'antologia multimediale della poesia contemporanea iblea. Un progetto ambizioso che comunque pensiamo che potrà dare i suoi frutti. Intanto, dato positivo, è la partecipazione, anche come prima serata, ma anche con la partecipazione come numero di poeti, che è abbastanza importante. Che cosa possiamo aggiungere a questa prima serata rispetto a questa prima serata? Che cosa va detto, va sottolineato in particolare? Ma va sottolineato intanto quello che noi ci siamo chiesti all'inizio è dove va la poesia. Dove va la poesia in particolare quella iblea. E quindi questa è una cosa molto importante perché vogliamo creare intorno al museo una comunità di poeti che possono avere come punto di riferimento il museo come luogo di cultura e ancora una volta noi proponiamo il nostro museo come luogo di cultura, non solo per Scigli ma per la comunità iblea. Questo progetto parte dal fattore ricordo e vuole transitare verso la memoria perché il ricordo senza memoria è labile e scompare. Il luogo della memoria è esattamente il museo, pertanto non si poteva che fare qui. Ed è qui che cominceremo, credo, un progetto che probabilmente non avrà termine né in questa stagione e mi auguro neanche nelle prossime. Un documento che non è solamente ideale ma anche fisico a questo punto perché verrà contenuto sia online che nei supporti fisici tradizionali ed è un documento allo stesso tempo metafisico perché rappresenta un dato etno-antropologico. Grazie.